Lanfranco Venturoni, capogruppo del PDL, vi apprestate alla maratona di fine anno per l'approvazione del bilancio nella quale sarà inserita la riduzione delle tasse annunciata dal Presidente Gianni Chiodi. Credo che questo sia stato l'impegno più arduo che questa giunta regionale, questa maggioranza si è posto e credo che l'errore aggiunto rappresenti veramente un grande traguardo, la fine di tutti i mali assolutamente no, però sicuramente in un momento in cui tra l'altro c'è una crisi internazionale, nazionale, regionale, comunale, delle famiglie, di tutto, andare in controtendenza sicuramente è un segnale veramente da apprezzare a mio avviso è estremamente positivo, dall'altro ci incoraggia per il futuro, io questo dico, che se nel momento in cui le cose vanno male noi riusciamo a fare bene, quando poi le cose vanno bene dovremmo fare ancora meglio e su questo si spera, io sono fiducioso per il futuro. Questa finanziaria sarà ancora una finanziaria di rigore, come abbiamo fatto fino adesso, di questa maggioranza, di questa aggiunta sicuramente tutto si può dire, ma sicuramente che non ha fatto gli omnibus, che non ha quindi ceduto al richiamo di chi per motivi elettorali ha chiesto fondi per quell'associazione, per quel contributo, per la chiesa e quant'altro, non perché queste cose non sono utili o non servono, perché in un momento di crisi sicuramente bisognava risparmiare e se noi non vogliamo aumentare il debito bisogna tagliare le cose che sono meno importanti per poter assicurare l'importante. Questo bilancio sarà ancora una volta un bilancio che non lascia assolutamente possibilità di derogare da questo. E credo di aver invece ridato dei soldi ai cittadini che hanno pagato e stanno pagando tasse troppo elevate rispetto a voler rifare qualche piacere a qualcuno isolato sia più importante ridare i soldi ai cittadini, per tutti i cittadini. A proposito di soldi dei cittadini, l'Abruzzo con Lanfranco Venturoni, capogruppo dell'EPDL vede per legge definito il proprio modello virtuoso nel finanziamento dei gruppi politici in Consiglio regionale, quindi la gestione oculata si può fare? La gestione oculata si deve fare, non solo si può fare, si deve fare. Penso che la politica debba dare il primo esempio. Io sono contro il populismo che dice che il politico non deve guadagnare nulla, che è tutto gratis e così via, perché poi alla fine così non è. La politica costa, costa sia in termini di impegno, perché se uno veramente vuol fare politica lavora più di altri che fanno le 8 ore al giorno, perché la politica non ha orari, se vuol fare veramente politica e ci si impegna. Ma io dico che come tutti i lavoratori di questo mondo devono avere delle regole, regole certe sia per il lavoratore che il datore di lavoro, sia quindi per lo Stato che per il politico che fa attività politica. Noi come Regione Abruzzo abbiamo sempre, non da adesso, quindi da, io ero già una legislatura del 1995-2000, sprechi in politica, sinceramente la Regione Abruzzo non l'ha fatta mai in termini di costi della politica. Certo, alcune cose si possono anche evitare, però voglio dire, sicuramente oggi in momento di rigore ancora più si sta attendo a non spiegare i soldi ai cittadini, questo è un gioco di dubbio. A proposito di enti, le province non saranno tagliate, è saltato il decreto di riordino, l'Abruzzo anche in questo caso aveva lanciato una proposta, se vogliamo, shock, zero province. Vede, all'inizio di questa vicenda delle province, parlo ormai penso del mese settembre, ottobre, ci fu una riunione a Teramo. Io feci un intervento, come al solito sintetico, di un minuto o due, e disse che a mio avviso le province non c'erano i termini oggi per poter fare questo accorpamento delle province. Che il nostro programma era abolire le province, quindi o si andava all'abolizione delle province, altrimenti non se ne faceva nulla. Che la proposta, prima ancora che fosse fatta, dal CAL sarebbe stata l'Aquila a Teramo e Chiedi Pescara. E che comunque questa cosa non andava in porto in questa legislatura. E' avvenuto quello che abbiamo detto, che avevo previsto, se vuole ci sono le registrazioni, all'inizio di tutto questo casino che c'è stato sulle province. Io insisto, fortunatamente le cose sono andate così, perché non c'è, ripeto, non c'è nessun risparmio, se non anzi il disagio dei cittadini, quello di aver fatto l'accorpamento delle province. Le province come ente l'ha eliminato, lo riesgo da ridire, e spero che la prossima legislatura questa storia si risolva in maniera giusta e non pasticciata come adesso. La prossima legislatura si voterà a questo punto con il Porcellum nel 2013, salvo improbabili colpi di scena, ma bisogna decidere quali sono gli schieramenti e le forze politiche in campo nel centro-destra. Il PDL avrà un futuro, secondo Lanfranco Venturoni? Il PDL come sigla PDL è un discorso, invece il centro-destra ne è un altro. Oggi il PDL raggruppa fondamentalmente, quasi totalmente il centro-destra, cosa che non è a sinistra, cosa che non è stata mai in passato. Penso che sia stata la prima volta che un partito interpretasse una forza di maggioranza come un unico partito e non come una coalizione. sicuramente ci sono difficoltà. Credo che oggi, al di là del Porcellum o meno, la cosa più importante sia quella di andare a chiarire politicamente se questo Paese vuole essere eletto da Bersani con una percentuale del 30% dei voti, così almeno danno i sondaggi, e quindi dare un governo al Paese che rappresenta un 30% degli elettori e dargli la maggioranza con la stessa sinistra spaccata, perché credo che la sinistra vera sia più sull'arancione. E invece per il popolo di centro-destra quale potrebbe essere la soluzione? Il popolo di centro-destra, che ripeto, e lo dico sempre, è il popolo maggioritario in questo Paese, il popolo di centro-destra deve andare a ribotare. A ribotare che cosa? A ribotare una coalizione, e soprattutto chi guida questa coalizione, che sia credibile e che dia speranza e certezza di governo a questo Paese. Ora questo signore si chiama Monti, si chiama Berlusconi, si chiama Alfano, si chiama chi ci pare, l'importante è che esista la credibilità del progetto e soprattutto che questi pseudo-leader che in questo momento sono andati sulla scena del centro-destra, in qualche modo abbandonano i loro tatticismi e che invece si pensi veramente a essere più a favore di un governo vero di centro-destra e non all'aspirazione di singole persone. Credo che Berlusconi questa cosa l'abbia fatta in passato, se oggi è risceso in campo perché credo che non ci sia un'alternativa, se questa alternativa, e credo che questo suo intervento a mio avviso sta favorendo questo, se questa alternativa si presenta, forse pure che si chiama Monti, ma l'importante è che ci sia questa alternativa credibile, vera, che dia certezza a questo Paese di governo e soprattutto credibilità a livello internazionale e ruolo di spicco come l'Italia ha avuto sempre in dell'Europa.